La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore all'agricoltura, la graduatoria definitiva del provvedimento a favore delle famiglie danneggiate dall'evento alluvionale del 18 febbraio e del 1 marzo 2011, emanato lo scorso luglio. A fronte delle 73 domande pervenute, le istanze ammesse finanziabili sono 38, quelle ammesse non finanziabili per mancanza di fondi sono 17, mentre quelle non ammesse sono 18. Gli elenchi saranno pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web www.basilicatanet.it. I fondi stanziati con il provvedimento del Governo regionale ammontano un milione di euro, di cui il 70% destinato alle famiglie che sono state danneggiate dall'alluvione e il restante 30% per la costituzione di un fondo da destinare a coloro che sono a rischio usura. Grazie per la visione!